Buon pomeriggio, ormai buona serata vista l'ora, ci troviamo come potete vedere in Assemblea regionale siciliana lì c'è il nostro collega che vaga parlando al telefono e io sono con Accursio Sabella Buon pomeriggio Accursio Buon pomeriggio Allora oggi si parla tanto della vostra iniziativa nei corridoi dell'Assemblea regionale di Palazzo dei Normanni iniziativa Stop Arts, cos'è? Stiamo chiedendo di fatto ai deputati di andare a casa Sì, servono 46 adesioni, nel rispetto dello statuto della regione siciliana bastano 46 adesioni contestuali per di fatto porre fine alla legislatura, noi stiamo chiedendo di farlo Tu segui come cronista politico i lavori dell'Assemblea regionale siciliana Non esageriamo con le parole Cosa? Assemblea regionale siciliana e cronista? Perfetto La nota curiosa di questo palazzo, se dovessi trovarne una La nota curiosa di questo palazzo sono gli addetti stampa dei gruppi parlamentari che girano con iPad Come si dice? Sì A fare dei filmati davvero cacaccianti tipo questo Tipo questo Che poi ha un po' di film quasi dell'horror Sì, è veramente tremendo Bene, con questa immagine noi salutiamo i nostri telespettatori Grazie 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 Grazie